Come si sono svolti i fatti? La mia domanda a cui vorremmo avere una risposta è qualcosa che era già programmato, cioè era una programmazione generale di verifica e allora forse era opportuno che se ne concordassero tempi e modalità con l'amministrazione comunale, con la città, con la prefettura, con tutte le articolazioni. E' qualcosa invece di particolarmente urgente che all'improvviso si debba fare questo e allora forse la città ha il diritto di sapere che cosa sta succedendo su quel ponte. C'è un pericolo? C'è un pericolo imminente? Non dobbiamo più passare? Dovremmo qualcosa di in più saperlo, soprattutto se pensiamo che il tangenziale, se non vada errato, introita circa 100 milioni di euro all'anno con i soldini dei napoletani, quindi forse qualche informazione in più, qualche programmazione fatta meglio e qualche solidità in più la dovremmo pretendere. Attività di distrazione di massa le respingiamo al mittente, perché anche i bambini più piccoli della città sanno che il lungomare pedonale con la tangenziale non c'entra nulla, invece c'entra molto che la prima misura che il tangenziale deve adottare immediatamente, stamattina parte la mia lettera formale dopo averlo già anticipato al capo di gabinetto del ministro ieri per la gratuità della tangenziale sino alla fine dei disagi, che non sappiamo ancora, e questa è un'altra sorprendente nebulosa, non ci dicono quanto durerà questa situazione di forte disagio e la gratuità serve, punto primo, per alleviare i disagi dei napoletani, secondo, per andare anche un po' più rapidi. Quindi da questo punto di vista noi oggi ascolteremo finalmente tangenziale per capirne qualcosa di più, perché allo Stato abbiamo fatto anche un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica stamattina, nel prefetto, nel questore, nel comandante provinciale dei Carabinieri, nel comandante provinciale della Guardia di Finanza, ne sapevano di più, stiamo parlando di cose molto serie e molto importanti, sia per il traffico ma anche per la sicurezza, quindi capisco che poi altri la vogliono mettere sempre in caciara, noi invece andiamo dietro ai fatti, ai ragionamenti, al buonsenso, quindi vediamo che cosa ci verrà detto oggi, monitoriamo la cosa e devo dire che anche il Ministero non ne sa più di tanto, quindi perciò siamo anche un po' da questo punto di vista preoccupati di tanta improvvisazione.